Come aumentare così gli FPS su Blackmeat Wokong? Ovviamente useremo le impostazioni Nvidia e soprattutto anche un programmino che usavo spesso su Fortnite per farla arrivare fino a 300-350 FPS e ho solamente una 1660 Super e soprattutto anche un overclock su MSI Afterburner. Quindi facendo tutte queste impostazioni andremo ad aumentare gli FPS su Blackmeat Wokong. Quindi in questo caso in descrizione ho lasciato così il pannello di controllo di Nvidia. Una volta scaricato e installato lo puoi aprire direttamente qua sotto, tasto a destra sopra, pannello di controllo Nvidia. Andiamo direttamente su gestisci le impostazioni 3D e inseriamo così il nostro programma. Quindi Blackmeat Wokong lo inseriamo qua. Inseriamo così il gioco. Quindi come per vedere qui avevo messo Fortnite perché avevo fatto anche altre guide riguardo anche a Fortnite come aumentare gli FPS. Aggiungi e adesso andiamo a prendere il gioco. Quindi vado direttamente nella sua cartella e vado così a cliccare il punto EXI. Ok, devi inserire Blackmeat Wokong.exe, l'applicazione. Ed eccolo qua. Ovviamente andiamo un attimo sul ridimensionamento immagine che sarebbe così la nititezza e mettiamo disattivato. Faremo anche varie impostazioni, quelle che ci consiglia Nvidia. Quindi correzione gamma mettiamo attivo. Questo qua mettiamo disattivo. Disattivo un attimo. Controllato dall'applicazione. Anti-alesing trasparenza metto disattivato. Il buffering triplo metto disattivato. Scendo fino a giù. Fino a trovare questo qua lo possiamo anche saltare. Compatibilità OpenGL mettiamo automatico. Filtro anisotropico mettiamo disattivato. Nessun controllo dall'applicazione. Filtro struttura ottimizzazione trilineare mettiamo disattivato. Filtro struttura mettiamo nessuna qualità. Prestazioni elevate. Fotogrammi pre-renderizzati mettiamo 1. Frequenza fotogrammi massima. Puoi anche attivarlo e metterlo fino a 1000 fps. Frequenza fotogrammi massima applicazione. Stessa cosa. No qui mettiamo disattivato. GPU rendering OpenGL mettiamo la tua scheda grafica. E metto la mia 1660 sub. Metodo di presentazione Vulcan OpenGL metto automatico. Modalità bassa latenza metto ultra. Modalità di gestione dell'alimentazione per quelli che lo stanno facendo girare su un portatile vi consiglio la potenza ottimale. Multiframe. Questo qua lo possiamo saltare. Ottimizzazione con triad mettiamo automatico. Sincronizzazione verticale. Metti disattivato perché non dobbiamo bloccare gli fps. Quindi dobbiamo sbloccarli e aumentarli. Quindi tecnologia monitor. Se il tuo monitor sopporta il FreeSync o il G-Sync. Metti compatibilità G-Sync questo qua. Questo è per Nvidia. La più elevata disponibile. Una volta fatto tutto. Tutto facciamo applica. E aspettiamo che tutte le impostazioni. Ok abbiamo fatto. Una volta fatto. Dobbiamo prendere il programma Nvidia Profile Inspector. Ovviamente questo programma qua è un piccolo programmino che riduce un po' la texture. Riducendo un po' di grafica. Aumentando un po' gli fps. Il programma lo trovi in descrizione. Se hai problemi con il link puoi entrare direttamente nel mio server Discord. Ti mando direttamente io il pacchetto. Oppure puoi iscrivermi in privato. Quindi è un pacchetto raro. Devi estrarre. All'interno del pacchetto raro troverai la cartella. Quindi puoi mettere se ti dà Black Meat Wukong inseriscilo. Se no chiudi un attimo l'applicazione. Riapri. Questa applicazione funziona per le schede grafiche Nvidia. AMD bisogna provare. Per Intel invece no. Non funziona per Intel. Global Drive Profile. Basta. Metti solo questo. Scendi fino a giù. Fino a trovare. Plantia Lasing. Transparency Multi-Sample Settings. Questo qua. Mettilo su 01 alla fine. Questo qua invece. Quello sotto. Mettilo su 8. Scendi fino a giù. Fino a trovare. Il DirectX. Questo qua. Texture Filtering. Load Bias DX. Per DirectX. Più 2.7500. Ovviamente tu puoi anche testare questo programmino. Su tutti i giochi che vuoi. Fare dei test. Bostare la grafica. Ridurre la grafica. La texture. E tutte queste cose qua. Una volta fatto. Applica più volte. Su Nvidia Profile Inspector. Se non ti piacciono così queste impostazioni. Puoi cliccare qua sopra. E fai. Ripristina. Basta. Lo rimuvi. Clicchi più volte finché non si ripristina. Nvidia. Quindi il pannello di controllo di Nvidia. Rimuovi l'applicazione. Dal pannello di controllo di Nvidia. La rimuovi. Ripristinando il tutto. Ora. Tempo fa mi ero anche informato su un benchmark della mia scheda grafica. E ho visto anche delle guide che aumentavano gli FPS sulla 1660 Super. Quindi vado così a fare un overclock. sulla mia scheda grafica. Un piccolo overclock. Ovviamente questo è il mio sulla mia scheda grafica. Se hai una mia scheda grafica. Proprio la mia scheda grafica. Puoi farlo pure tu. Se invece hai tipo una 4090, 4080, 4060. Tutte queste schede grafiche qua. 3080. Devi trovarti un overclock tuo. Quindi. Imposto il core. Su trattino 202. Quindi meno 202. Lo applico su 925. E lo vado a mettere su 1970. Memory Glock. Lo metto su 402. E faccio applica. Potenza. L'aumento. E basta. E lo tengo attivo. Grazie a queste impostazioni. E' possibile così aumentare di 30, 40 FPS in più. Ma sempre grazie al programma NVIDIA Profile Inspector. Più riduci la texture e la grafica. Più gli FPS aumentano. Provinando un po' la qualità del gioco. Però gli FPS sono aumentati. Puoi anche guardare le altre guide riguardo anche a Fortnite. O GTA. Oppure altri giochi dove ho realizzato guide su come aumentare gli FPS. Soprattutto anche Minecraft fino a 1000 FPS. Quindi grazie a tutti per questa visione. Se hai problemi commenta sotto al video. Se non ti piacciono queste impostazioni. Come ho detto. Puoi ripristinare tutto. Qua sopra. Quindi grazie a tutti. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial.